Musica Secondo le ultime previsioni dei meteorologi italiani, nei prossimi giorni ci sarà una sorta di primavera anticipata sull'Italia, con sole e temperature diurne sopra la media anche di oltre 6-8 gradi, attese massime fino a 18-20 gradi, ma con picchi fino a 21-22 gradi. Su Val Padana, regioni tirreniche, isole maggiori, marcate escursioni termiche rispetto alle ore notturne, quando le minime potranno scendere localmente sotto i 5 gradi sulle zone interne.